musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xhuger e ragazzi ci siamo finalmente dopo un'ora che attendevamo l'arrivo del teaser numero 3 relativo alla season 6 che arriverà domani ce l'abbiamo ragazzi ce l'abbiamo ed è incredibile ragazzi assolutamente preciso con tutto quello che avevamo detto in queste settimane riguardanti il trailer la storia la trama della stagione numero 6 quello che vedete alle mie spalle ragazzi è il primo quello che hanno pubblicato due giorni fa un lama che viene dal futuro il signor DJ lama ragazzi quindi il futuro sicuramente potrebbe esserci dentro il nostro fortnite se andiamo avanti ragazzi una cowgirl che invece si parla del passato quindi il wild west e questa è una skin che potrebbe esserci assolutamente nel pass battaglia della season 6 ma ragazzi mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo siete pronti? 3 2 1 stadan eccolo qua il teaser numero 3 ed è perfetto ragazzi è il Fenrir l'avevamo già visto ne avevamo già parlato secondo quello che la storia dice nella mitologia nir norrena quindi il Fenrir la bestia che viene liberata dalle sue catene e che andrà a combattere contro il bene contro gli dei del bene è oggi apparso finalmente per la prima volta su fortnite lo vediamo in uno stile molto interessante sembra un pro un crash band di cottincazzato però va bene nel senso ci sta è crash band di cottincazzato ci sta ragazzi ci sta assolutamente come vedete gli hanno messo addosso un gilet una fascia sulla fronte vediamo dietro infatti le due corde che sventolano e dei para avambracci assolutamente in stile con tutte le skin di fortnite questo Fenrir è meraviglioso non mi sarei mai aspettato di vedere questo come terza immagine del teaser ma è veramente da gg ragazzi quindi voglio sapere ragazzi qua sotto nei commenti qual è la cosa che vi piace di più dei tre teaser che sono stati rilasciati il dj lama la cowgirl o il Fenrir fatevelo sapere qui sotto preparatevi perché domani io inizio alle nove e mezza alle dieci vanjui server e poi aspettiamo tutti l'arrivo della stagione numero sei noi ci vediamo stasera in live ciao ciao ciao